I peggiori commenti sotto i video di Sanremo in 30 secondi. Mahmood Piadina Non ci provo neanche a dargli un significato. Anna-Lisa Sei bellissima e bellissima. Risposta di se stesso? Sì. Un uomo che crede nelle sue convinzioni. Bra. Madonna che buona! Scassami le costole! Non riesco neanche a fare il... Ma perché le costole? Angelina Mango Ha fatto piangere anche i muri con questo tributo. Doveva vincere lei. Risposta? Facciamo colazione insieme. Ma puoi broccolare sotto i commenti di Sanremo? Dove annunci... Ma... Ma...